Come riportato nel corso delle edizioni giornaliere della nostra programmazione sportiva, nella scorsa settimana il Comitato Tecnico Scientifico ha approvato le nuove linee guida per gli sport di squadra, vale a dire calcio, basket e volley. E' stato ritenuto congruo il limite del 35% di giocatori positivi all'interno del gruppo squadra di un club per disputare le partite, così come sono state approvate le nuove regole in caso di infezioni. Il nuovo protocollo prevede che in presenza di un contagio all'interno del gruppo squadra il positivo venga messo in isolamento monitorato e controllato. I contatti ad alto rischio saranno sottoposti a test antigenico per almeno 5 giorni e all'obbligo di indossare la mascherina FFP2 in tutti i contesti in cui non viene effettuata attività sportiva, a prescindere dallo stato vaccinale. Quattro ore prima delle gare inoltre andrà sempre e comunque effettuato un test per i contatti a basso rischio, cioè soggetti che hanno rapporti con il gruppo squadra in maniera non continuativa, si applicano invece le misure previste dalle indicazioni ministeriali anche in relazione allo stato vaccinale, oltre ad essere sempre raccomandato l'utilizzo della mascherina FFP2. Per quanto riguarda la soglia del 35% per rinviare un match non era stato chiarito su quale numero calcolare tale percentuale. La FGC ha fatto chiarezza sulla questione stabilendo che la rosa delle squadre di calcio di serie A, serie B e serie C sulla quale calcolare la percentuale è di 25 giocatori, secondo le modalità previste da ciascuna lega di competenza. È quindi di 9 giocatori positivi il limite che permetterà alle ASL competenti di intervenire per non far disputare la partita. La lista contenente l'elenco dei componenti del gruppo atleti dovrà essere inviata via PEC dalla società alla lega competente, anteriormente alla prima gara ufficiale successiva alla data di pubblicazione del comunicato della FGC risalente al 19 gennaio. L'elenco potrà essere variato con le modalità stabilite da ciascuna lega, ma soltanto relativamente ai nominativi dello stesso e non anche al numero complessivo dei calciatori inseriti. La Commissione Tecnica del Ministero della Salute ha approvato anche il nuovo protocollo per la ripresa dell'attività sportiva degli atleti guariti dal Covid, documento che si basa sul return to play della Federazione Medico Sportiva. L'aggiornamento della circolare, pur nel massimo rispetto della tutela sanitaria degli atleti, prevede una significativa riduzione degli accertamenti sanitari necessari per il ritorno in sicurezza all'attività sportiva degli atleti agonisti non professionisti. In primo luogo è prevista la distinzione degli atleti guariti dal virus in malati asintomatici con malattia lieve o moderata e casi gravi. Per gli atleti asintomatici o paucisintomatici è necessario soltanto un ecocardiogramma di base ed un test da sforzo, protocollo uguale a quello effettuato durante la visita medica di idoneità agonistica e non è più necessario eseguire la spirometria e l'ecocardiogramma color Doppler. Per gli atleti di interesse nazionale o internazionale asintomatici o paucisintomatici è necessario eseguire un solo test ergometrico massimale ed un ecocardiogramma color Doppler e non sarà più necessario eseguire la spirometria, l'ecocardiogramma alter ed altri esami che erano invece previsti finora.